Parliamo d'Italia, di futuro economico e finanziario. Vorrei approfittare di quelle che sono alcune notizie arrivate negli ultimi giorni per poter creare un quadro spero utile a tutti voi che guarderete questo video. Cercherò soprattutto di essere asettico e non fazioso perché ci sono davvero tantissime persone che sull'Italia si scatenano da ambo le parti. C'è il tifoso accanito del bel paese che diciamo si rammarica di questa difficoltà economica e finanziaria relativamente al nostro Futsimib, all'indice di riferimento e c'è il pessimista che non davvero non vuol sentir parlare di cose positive dell'Italia che cerca sempre di bastonare quello che è l'operato della politica degli imprenditori eccetera eccetera eccetera. Niente di tutto questo cerchiamo di essere oggettivi. Partiamo con il primo punto con un articolo pubblicato pochi giorni fa dalla CGA di Mestre in questo report mette tutti quanti in allerta su quello che potrebbe essere un boom di fallimenti delle imprese per il prossimo autunno quindi a cavallo tra il terzo e il quarto trimestre 2022. Sul sito della CGA di Mestre trovate tutto quanto l'articolo potete andarlo tranquillamente a ricercare ci sono fior fior di dati che chiaramente vanno a costruire questa visione è un allarme sicuramente preoccupante che deve metterci un attimo tutti quanti in campana. Un secondo punto che voglio andare a trattare di cui davvero si parla tantissimo nelle ultime giornate è lo scudo anti spread. Come potete notare vi faccio passare un paio di articoli sia del Financial Times che del Sole 24 ore ne parlano entrambi ma non solo perché praticamente su tutti i portali possiamo trovare approfondimenti. Non ci sono stati ancora chiarimenti da parte di Christine Lagarde numero uno della BCE ma insomma questo potrebbe essere sicuramente un fattore crusale nel breve quantomeno per vedere da una parte un abbassamento dei rendimenti dei nostri BTP perché chiaramente ci potrà essere il sostegno ancora una volta prolungato da parte della banca centrale e dall'altra parte ci potrebbe essere un recupero dopo i recenti cali da parte del nostro indice. Attenzione questa tematica si lega anche ad un altro aspetto che è quella appunto che vede il nostro debito italiano ancora in forte crescita. Ultima rilevazione con ancora un record e questa è una tematica che si lega assolutamente a quanto dicevo prima allo scudo anti spread perché per finanziare il debito c'è l'emissione di obbligazioni da parte dello Stato quindi titoli di Stato che devono offrire una cedola. Che cedola devono offrire e soprattutto una volta che sono a mercato come si comportano gli operatori soprattutto per capire se il debito è sostenibile capite che è fondamentale ma c'è un altro aspetto di un po più ampio respiro che potrebbe ancora una volta influenzare il futuro del nostro paese che riguarda infine il patto di stabilità. Il patto di stabilità che è stato rimandato al 31 12 2023 doveva essere rintrodotto ad inizio proprio 2023 ma da parte dell'unione europea c'è stato un ulteriore dilazione. Attenzione inoltre perché sotto questo aspetto si inizia a volsiferare quello che è un'ulteriore rimodulazione del patto di stabilità e quindi ci potrebbe essere un nuovo patto di stabilità nel prossimo anno che entrerà in vigore nel 2024. Sicuramente sarà importante anche cercare di mettere sotto la lente di ingrandimento o quantomeno seguire anche questa vicenda perché comunque sia nel medio lungo periodo potrebbe essere dal mio punto di vista un fattore piuttosto importante. Prima di andare all'analisi del nostro Fuzzimib, una semplice analisi tecnica, vorrei citare anche quest'ulteriore fattore e cioè il rialzo dei tassi da parte della BCE. Scontato quello che sarà nella riunione di luglio un primo step di rialzo da 25 punti base, un ulteriore step sarà fatto a settembre, ma qui c'è sicuramente dato sull'infrazione che fa da discriminante principale, se salirà ancora eccetera eccetera eccetera. Ma detto questo sarà magari tema di un altro approfondimento, altrimenti mi dilungo troppo. Il costo del denaro sarà più alto in futuro, ma questo indipendentemente infrazione sì, infrazione no, l'infrazione è sicuramente dominante come argomentazione, ma costo del denaro in rialzo e quindi impatto su quello che sono i mutui, prestiti alle imprese e così via. Sarà da rimodulare anche quello che sarà l'accesso al credito da parte dei cittadini e delle imprese stesse e questo avrà un ulteriore impatto sull'economia. Quali sarà non lo posso sapere e non me lo posso ancora immaginare, ma sicuramente sarà un qualcosa da tenere ancora una volta sotto stretta attenzione. Ma prima davvero di andare all'analisi del nostro indice, per cercare di andare a darvi qualche spunto di natura tecnica, vorrei ringraziare ancora una volta Fontover per il sostegno che ci dà nella realizzazione di questi video. Vi faccio vedere ancora una volta e trovate in descrizione il link che vi rimanda direttamente al sito che vi sto mostrando. Se cercate direttamente Fuzzimibro trovate davvero un'infinità di prodotti, quelle che sono certificate leva fissa, turbocertificati, prodotti che sono composti o meglio che hanno all'interno il Fuzzimibro e altri asset e quindi che possono essere ponderati in maniera diversa sotto l'aspetto della performance. Insomma un'infinità di prodotti che potete andare a avviare tranquillamente non soltanto per chi cerca di speculare in ottica di brevissimo respiro, ma anche chi cerca di trovare un'ottica di investimento nel medio e lungo periodo. Andiamo infine a vedere il grafico del nostro Fuzzimibro e timeframe settimanale, 14 anni di storia circa dal 2008 in poi. Molto semplice la view sotto questo aspetto, 24.000-24.500 punti è l'area di resistenza più importante, a parte la seconda metà del 2021 poi come potete notare siamo sempre rimasti di sotto di tali livelli. La discriminante più importante nel breve però si trova intornare a 21.000 punti. Dal punto di vista tecnico molto interessante, la tenuta della stessa potrebbe appunto sancire quantomeno lo stop alle pressioni ribassiste che hanno coinvolto il nostro indice nelle ultime settimane, creare magari una fase di accumulazione e poi da lì una spinta verso la resistenza prima citata e poi eventualmente qualora dovessero migliorare gli ulteriori aspetti citati in precedenza dal punto di vista macro ci potrebbe essere un nuovo superamento di tale area fino all'attacco dei 28.000 punti massimi del 2021. Attenzione dall'altra parte qualora ci dovesse essere invece un cedimento di area 21.000 punti corroborata da quello che è un eventuale peggioramento delle situazioni precedentemente enunciate, beh lì attenzione perché si potrebbe scivolare in maniera abbastanza decisa addirittura a 18.000 punti circa come area. Se non peggio non c'è limite da questo punto di vista quindi attenzione. Sto cercando semplicemente di elencarvi in maniera molto sintetica quelli che potrebbero essere i fattori cruciali per il futuro economico e finanziario dell'Italia. Io non so se tutto andrà bene e quindi ci sarà una reazione da parte del nostro listino, perciò era 25.000 punti, 26.000, 27.000, 28.000, se vedrò successivamente un calo importante del rendimento dei nostri BTP al 3, 6, 3, 7, 4% toccati nelle ultime settimane si potrà tornare al 2,5%, io questo non lo so, non ho la sfera di cristallo. Sto cercando semplicemente di elencare quelli che potrebbero essere i fattori cruciali. Spero davvero che l'appreziate, quindi fatemelo sapere all'interno dei commenti e se volete potete mettere un bel like, ma infine vi ricordo che vi potete iscrivere sempre in maniera del tutto gratuita al nostro canale YouTube dove sono presenti tantissimi approfondimenti, ma vi invito anche a iscrivervi al nostro canale Telegram all'interno del quale tanti grafici, tanti approfondimenti, tante dirette flash che realizziamo sia io che Giuseppe per approfondire in maniera molto rapida quello che accade sui mercati. Se sarà un'estate rovente, come dicevo in qualche video fa, beh sintonizzatevi perché cercheremo di accompagnarvi e di guidarvi quantomeno nell'interpretazione dei movimenti sui mercati finanziari nelle prossime settimane. Spero davvero che vi sia piaciuto questo video, io vi ringrazio anticipatamente, vi auguro una buona giornata e vi attendo al prossimo video.